I testimoni di Geova, credono che tutte le informazioni provenienti dalla Watchtower siano verità assolute. Il TDG infatti, facendo largo uso della parola verità, nella sua vita teocratica, può finire per autosuggestionarsi, non ritenendo più necessario discutere, ciò che proviene dall'organizzazione. Di conseguenza, non è insolito riscontrare nel TDG una certa chiusura mentale. La seguente clip, tratta da un servizio delle Iene, ne è un esempio. L'affermazione di questo fratello è un esempio di logica mentale comune nei testimoni di Geova. Il percorso è questo. La Watchtower, a volte, consiglia di non rilasciare interviste ad organi di informazione, senza prima aver contattato il reparto legale della società. Se ho fede nell'organizzazione guidata da Dio, posso affermare con sicurezza che queste istruzioni arrivano direttamente da Geova. Quindi, è Geova, a darmi l'autorizzazione a rispondere. Gesù disse. Io sono la via, e la verità è la vita. Il nesso è. Se oggi Gesù guida la sua organizzazione, la Watchtower, è, la verità. Interessante che, neppure la legge mosaica era la completa verità. Il libro per spicaccia, alla voce verità, afferma. La legge, per quanto verace, non era la piena verità e perciò doveva far posto alle realtà che prefigurava. Similmente, il riferimento dell'Apostolo Paolo alla verità nella legge, non implica che nella legge ci fosse qualche falsità, ma dimostra che la legge non era la piena verità. Nel tempo, molte verità della Watchtower, si sono rivelate solo opinioni errate. La verità non è un'opinione, un po' come la matematica. Se dico 1 più 2 uguale 3, oppure 2 più 1 uguale 3, esprimo fatti. Ma se dico che 2 più 2 uguale 5, sto esprimendo un'opinione, oltretutto errata. Chiediamoci. Quando parliamo della verità, siamo sicuri di non includere anche opinioni che in futuro potrebbero rivelarsi errate? Non sarebbe una novità per la Watchtower. Sempre dal perspicacia. Geova è il Dio di verità. È fedele in tutto ciò che fa. Le sue promesse sono sicure, perché Egli non può mentire. Giudica secondo verità, cioè secondo come stanno veramente le cose, e non in base alle apparenze esteriori. Tutto ciò che emana da Lui è puro e senza difetto. Da parte nostra, sarebbe umile interpretare la parola di Dio, esprimendo le proprie opinioni come fossero verità divine? La società dimostra forse umiltà, quando impone le sue interpretazioni, come fossero verità da Dio? Quando il tempo le ha poi identificate come opinioni errate, perché ostinarsi ancora a parlare della verità in maniera assoluta, zonata. Gesù disse la verità vi renderà liberi. Chiediamoci. Se venissimo a conoscenza di fatti reali, documentati, che minano la purezza dell'organizzazione, potremmo ritenerci liberi di parlarne? Potrei dire che la società ha fatto compromesso iscrivendosi come ONG all'ONU, mentre testimoni fedeli sono morti nei campi di concentramento? Potrei dire liberamente che le coperture di abuso su minore, sono conseguenza di un'errata applicazione di principi biblici? Potrei dire che, la società ha predetto date abbastanza precise per la fine di questo sistema. Mentre, neppure Gesù sapeva il giorno e l'ora? In sostanza, se scoprissimo che, 2 più 2 non fa 5, potremmo far valere le nostre ragioni? No. La verità non mi sta rendendo libero, in questa struttura organizzativa. La società consente di avere sinceri dubbi e domande. Ma cosa accadrebbe, se le spiegazioni degli anziani non ci convincessero? Dovremmo lasciare le cose nelle mani di Dio. Ciò condurrebbe alla rinuncia di ogni forma di pensiero critico, e alla privazione di ogni conoscenza che non sia quella dichiarata dall'organizzazione in questo preciso momento. Ricorda un po', quel totalitarismo al quale mio zio, Winston Smith, cercò di sfuggire nel 1984. Oppure, mi ricorda quella messa in scena, che subì mio cugino, Truman Burbank, nel Truman Show. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS